Allora, grazie Presidente. Quest'ordine del giorno riguarda appunto l'Istituto di Via Cardinal Capranica, il Don Calabria, nel Municipio 14. Noi non siamo entrati nel merito della valutazione delle destinazioni finali di questi immobili, perché, come abbiamo analizzato in Commissione, abbiamo preferito dare nelle schede delle opportunità dei ventagli sui servizi che possono essere individuati all'interno di questi immobili. Tuttavia, già in Commissione, in cui ha partecipato anche il Presidente del Municipio 14, Alfredo Campagna, avevamo proprio dato come indicazione, vista anche la storia recente che ha coinvolto questo immobile, di favorire e quindi di dare tra i criteri del futuro bando che si andrà ad attuare come criterio di premialità quelle proposte che vedranno indicare come funzione prioritaria proprio quella della edilizia sociale nella delibera indicata come housing sociale. Qui nell'ordine del giorno si dà una definizione di carattere generale come edilizia sociale, ma noi voteremo comunque positivamente a questo ordine del giorno perché erano comunque indicazioni emerse in Commissione anche da parte del Presidente del Municipio ed tutti in Commissione eravamo favorevoli nel preservare, diciamo così, anche nella futura progettualità questa linea, cioè quella di prevedere all'interno dell'ex scuola o comunque dell'edificio che verrà realizzato al posto della scuola queste funzioni. E ovviamente noi abbiamo chiesto però ai proponenti di aggiungere una frase che è quella di restare comunque all'interno degli standard urbanistici previsti, quindi fatti salvi i standard urbanistici che devono essere comunque verificati, anche per noi è positivo che su quell'immobile venga data nel futuro bando una priorità a questi aspetti sociali, proprio come dicevo prima, anche inserendoci nella storia recente di questo immobile, volendo fare salvi dunque la finalità sociale di questo immobile, per cui esprimeremo voto favorevole. Grazie.